Buongiorno amici e bentornati sul nostro canale. È da un po' che non vi facevamo una scheda di presentazione di un veicolo nuovo, ma per oggi abbiamo riservato una sorpresa in grande stile. Oggi andremo a conoscere questo Summit 640, l'ultimo arrivo di casa Globecar per questa stagione. Una macchina sicuramente molto desiderata, perché completa di molti accessori e perché è dotata di una piantina molto richiesta, che è quella con i letti gemelli posteriori. Facciamo come sempre la nostra panoramica esterna, dove andiamo a conoscerlo un po' da fuori prima di passare all'interno. Il veicolo è esposto, come potete notare dalla scrittina che vedete qui davanti, è montato su meccanica Fiat 160 CV e ha il telaio Heavy. Queste sono due caratteristiche di questa macchina. In aggiunta, chiaramente è dotato del pacchettino all-in, della lunga del tavolo di net con terzo letto, della predisposizione radio con altoparlanti e antenna DAB. Qui sul lato sinistro possiamo notare l'attacco esterno della 220 e il cammino della caldaia. A seguire lo sportellino del WC. A tetto vediamo sulla zona anteriore un oblo panoramico aperto sulla zona living, che poi quando saliremo andremo a vedere. Due finestre di grandi dimensioni sulle pareti posteriori sinistra e destra ai lati, mentre Globecar sceglie di non avere le finestre sui portelloni apribili in coda e questo chiaramente ha vantaggio della lunghezza del letto e dell'isolamento per chi deve dormire con la testa da questo lato. La parte gavone sotto è molto ampia, illuminata automaticamente all'apertura dei portelloni e qui sul fianco sinistro abbiamo il vano per le due bombole da 10 kg. Sul lato destro troviamo subito in coda il bocchettone per l'imbarco dell'acqua potabile, la finestra chiaramente per il letto destro e il classico portellone Fiat anch'esso dotato di finestra. Vi faccio notare che le finestre sono finestre size con cornice, quindi abbiamo vetro a filo e telaio in poliuretano esterno. Salendo a bordo abbiamo un gradino elettrico a rientro automatico largo 70 cm, il portellone è dotato di zanzariera e il vano cucina salendo ha questa forma stondata. Questo mi lascia chiaramente molto più spazio libero in corridoio per il passaggio e lo spazio all'interno è sfruttato con queste due mensole angolari in maniera che quando io apro tutto quello che è all'interno me lo ritrovo a vista, pronto uso. Il piano cottura è classico per i van, quindi abbiamo due fornelli dotati di accensione peso e il classico lavello in acciaio. E su questo piano rialzato che mi funge anche da comodo piano di appoggio, alla base abbiamo il frigorifero a compressore da 100 litri e un cassetto sulla parte bassa. Il resto del sottocuccino è sfruttato con tre cassetti, chiaramente questo alto è dotato di porte posate, mentre i due inferiori sono liberi per lo stivaggio. La zona della dinetta, come sempre, ha i due sedili cabina girevoli, il tavolo è smussato per facilitare il passaggio in cabina, chiaramente quando i due sedili sono in posizione di fronte marcia, ed è dotato di piano allungabile sulla parte bassa rotante per arrivare a servire anche il sedile passeggero della cabina. In più, in questo qui, come vi dicevo prima, c'è la possibilità di abbassare il letto e con un pianalino in legno di andare a occupare questo spazio qua e creare un terzo letto per adulto, perché diventa a tutta larghezza qui davanti. La parte alta ha un pensile sopra finestra sul lato sinistro, mantiene la cappelliera sopra cabina, che rimane sempre uno spazio molto utile per lo stivaggio, perché è decisamente ampio e nei van, secondo me, è una cosa molto pratica da avere. Il panelino comandi della centralina e della caldaia. L'oblò panoramico a tetto, come avevo accennato dall'esterno, è un midi echi da 70x50, e passando sempre nella zona centrale, sul lato sinistro, troviamo il bagno. Il bagno di Summit è uno dei bagni più intelligenti che troviamo nei van. Abbiamo il WC posizionato a sinistra, chiaramente dotato di tazza ruotante. Il mobiletto lavandino è qui sulla destra, con specchio e ulteriore specchio sulla parte alta. E ruotando questa parete, abbiamo chiaramente a disposizione lo spazio per la doccia, con la sua colonnina sempre pronta e miscelatore dedicato solo alla doccia. Un piccolo spazio di stivaggio è qui sulla sinistra, sopra il WC, e un altro sportellino utile, ce l'abbiamo sotto al lavandino. La porta è scorrevole con fissaggio a calamita. Passando alla zona posteriore, troviamo i due letti singoli, molto comodi, di ampie dimensioni. Questo sul lato passeggero, vedete che ha questo taglio, perché la rete è parzializzata per darmi accesso all'armadio che troviamo qui sotto. Lo spazio centrale, dove ci sono i due gradini, abbiamo uno spazio apribile, quindi possiamo andare anche qui a stivare degli oggetti. e anche questo vano dietro al bagno è dotato di asta appendiabiti, quindi mi funge da ulteriore piccolo armadio. I letti posteriori sono dotati di quattro faretti, quindi due per ogni lato, questo perché il letto può essere usato sia come letti singoli dormendo longitudinalmente, oppure se io voglio dormire in maniera trasversale è un letto matrimoniale, e quindi posso dormire sia da un lato sia dall'altro, perché abbiamo i faretti da ambo i lati. Sulla parte alta abbiamo il giro completo dei pensili, quindi sono due sul lato passeggero, pensili di coda a chiusura, e ulteriori due sul lato guidatore, e oblò mini echi in questo caso, quindi 40x40 sulla parte alta a tetto. Ricapitolando, quindi stiamo parlando di Summit 640, Fiat 160 cavalli, pacchetto all-in, terzo letto con tavolo allungabile, predisposizione radio con casse, il veicolo ha un prezzo di listino comprensivo di trasporto e matricolazione di 53.900 euro, è chiaramente visibile anche sul nostro sito con la scheda dettagliata con tutti gli accessori e le fotografie. rimaniamo a vostra disposizione come sempre per qualsiasi ulteriore informazione attraverso i nostri canali social allo 048191535 oppure via mail info-soimexcamper.it Arrivederci e al prossimo video!